Eccoci, siamo live. Ciao investitore e benvenuto in questa nuova diretta. Io sono Filippo Angeloni, consulente finanziario indipendente di Atene SCF e qui vicino a me c'è Francesco Casarella, responsabile per l'Italia di Investing.com. Oggi parliamo un po' dei maghi della finanza. Purtroppo non parleremo di personaggi come Ray Dalio, Warren Buffett ed altri, ma chi è che intendiamo Francesco? Che maghi intendiamo? Mi intendiamo un po' i maghi Merlino, quelli che fanno il gioco delle tre carte. Più che maghi potremmo quasi definirli, tanto insomma non credo faremmo nomi specifici oggi, però ecco si capirà il tipo di stile, di approccio, che è un approccio puramente, solamente un misto tra un marketing e un commerciale spinto, che però poi sotto di fatto sia a livello di contenuti che di etica c'ha ben poco, anzi tutto è finalizzato poi un po' per, diciamo, fregare, usando un senso buono, la povera gente che poi casca in queste cose qui. Io credo che intendiamo due tipologie, poi dimmi te, questa è una live un po' come al solito un po' improvvisata, ma perché è più reale così. Io credo che intendiamo sia formatori che poi magari ti vendono il classico infoprodotto pacco, nel senso che dopo dentro non c'è nulla, trovi dentro la sabbia. Oppure, però vabbè, fin là ok, però oppure addirittura proprio truffatori veri e propri che rubano, cioè commettono abusivismi finanziari, illeciti, reati, penali e tutto. Chiaramente quest'ultima categoria sono i peggiori, però anche i primi sarebbe bene evitarli, soprattutto in Italia dove la conoscenza finanziaria non è ai massimi livelli. Ma fanno leva su quello, sul fatto che la gente in generale sa poco, poi sono, bisogna dirlo, sono molto bravi, come ho detto prima, nella parte commerciale, di marketing, cioè a venderti questi sogni, questi risultati immediati e senza sforzo, perché poi dietro c'è sempre questo concetto, no? Che fa molto leva sulla finanza comportamentale, sulle paure degli investitori, cioè quindi questa gente qui conosce molto bene la mentalità del proprio cliente, la conosce benissimo. Benissimo. Per questo tipo di personaggi che purtroppo in Italia sono parecchi. Sì, è pieno. Io guarda, avevo preparato una presentazione, ma per un'altra, non per questa là in realtà, per un mio infoprodotto in realtà. Okio! Che non era un pacco quella, ti faccio vedere qualcosina. metto a schermo, allora queste sono secondo me le frasi classiche dei vari truffatori di Turo, no? Ti chiedono magari vuoi diventare ricco come me in tot tempo, come me perché nel frattempo magari si fanno vedere su Instagram, su jet privati, Lamborghini, Ferrari e cose di questo tipo. Vuoi guadagnare mille euro al mese comodamente da casa senza fare nulla? Questo è il massimo sogno erotico degli italisti. Risultato, tempo, no? Senza rischiare e senza alcuna abilità richiesta, questo è proprio il massimo, è ciò che cerca, ciò che cerca la persona. Vuoi scoprire i segreti che mi hanno permesso di diventare ricco immediatamente? Chi ha dentro sta già guadagnando soldi rischi di perdere il treno, fomo. Questo soprattutto sull'eclipto, ma non solo, però quest'ultima frase, credimi, soprattutto sull'eclipto, ritorna sempre. Purtroppo non funziona così, cioè per diventare ricco e davvero ricco serve tempo, abilità, capitali ed assunzione e gestione di rischio. Quindi chiunque dica che non serve una di queste cose, già è un campanello d'allarme molto, molto forte. Poi i truffatori non avendo davvero un prodotto o servizio da vendere fanno leva, su quello che dicevi tu, su desideri nascosti dei risparmiatori o investitori. Cioè il fatto di guadagnare senza fare nulla, guadagnare velocemente, guadagnare senza rischiare, quando in realtà non esistono passi gratis in finanza. Cioè per guadagnare devi assumerti il rischio, non se ne esce. Guadagnare con una strategia segreta e comunque sfruttano le tue paure e avidità. Ti ci ritrovi in questo? Sì, mi ci ritrovo, ma guarda, aggiungo a quello che tu hai detto che appunto queste cose qui fanno leva sull'aspetto mentale del potenziale investitore che dice, oddio, ho trovato finalmente la giusta persona che mi fa guadagnare tutto subito senza fare sforzo. Basta solo che gli pago il corso, il sistema di trading, eccetera. Allora, vi faccio qualche esempio proprio per riconoscervi se capitano. Spesso, perché mi arrivano, purtroppo io vengo bombardato, come penso tutti quelli che ci stanno seguendo, di sponsorizzate soprattutto su Facebook, su Instagram, ne riceviamo ogni giorno, abbiamo la bacheca intasata di ste schifezze. Allora, qual è una delle prime cose che vediamo se spesso? Vediamo quei risultati in fila, no? Questo ad esempio succede per chi magari opera sul Forex, quindi valute, ti fanno vedere il classico, la classica schermata con dieci operazioni su euro-dollaro, euro-franco-svizzero, euro-sterne, e tutte in guadagno, comunque dieci operazioni, una la perdi, però ragazzi, guarda che game che ho fatto oggi, no? Della serie, sono in piscina, sto bevendo il mojito, guarda che ho su dieci operazioni con il mio sistema automatico, su dieci operazioni una l'ho persa, le altre nove ho guadagnato a bomba. Allora, come fanno questi fenomeni del trading a, diciamo, a fare queste cose qui? Ci sono tanti modi, uno, quello più utilizzato è quello, allora, qual è il loro obiettivo? È venderti il corso, ok? Quindi ho il sistema di trading, cioè a un certo punto ti dicono, guarda, hai visto i miei risultati? Paga e io ti do il sistema, ti do l'abbonamento, quello che è. Quindi cosa fanno loro? Come fanno a vendertelo? Si aprono due conti, perché ricordiamolo, il loro obiettivo non è guadagnare sulle operazioni, il loro obiettivo è venderti il sistema piuttosto che. Allora aprono due conti di trading separati, dove sulla stessa operazione fanno, cioè sullo stesso sottostante, quindi immaginiamo l'euro-dollaro, fanno due operazioni di segno opposto. E qualcuna entra. Una compra, una vende, quindi per la matematica una delle due la prendi, ok? Poi mettono insieme queste operazioni, perché ovviamente lo fanno su dieci cose, venti cose, e poi ti fanno vedere, perché ormai PowerPoint, l'editing, ha voglia di fare gli screenshot, modificarli, quindi cosa fanno? Ti fanno vedere, poi alla fine hanno fatto venti operazioni, di cui dieci sul conto uno, dieci sul conto due, ti prendono nove su venti, non su dieci, nove su venti, che hanno guadagnato, perché ovvio, perché se una compri e una vendi, una delle due guadagna, ti mettono tutto insieme e ti dicono, hai visto quanto son bravo? Adesso compra il mio corso, ok? Questo è un esempio, poi te ne faccio altri. Comunque, guarda, quello che le persone vogliono, solitamente è dove uno può riuscire a vendere e quindi fare soldi, no? Ci sono più cose sicuramente che le persone vogliono. Uno può essere di scansare da addosso le responsabilità, e per questo magari potenzialmente ci sono i consulenti finanziari. Un altro metodo che le persone ricercano, una cosa che le persone ricercano, è ciò che in inglese chiamano wizard, cioè il mago, ricercano il mago. Quindi una figura così, che si professa come mago, è quasi un sogno erotico per una persona, per un risparmiatore investitore, su diversi settori. Poi probabilmente ci saranno anche maghi, leciti, bravini, chiaramente Warren Buffett è mago, cioè c'è poco da dire, o altri, insomma, sono maghi. Però nel campo poi di persone normali non si è maghi, solitamente, ma maghi meno legittimi, cioè truffatori. Mi ricordo, guarda, eravamo a un evento, avevamo, cioè io avevo preso una stanza, era andato sold out, c'erano le persone. Io parlavo, in quell'evento di finanza comportamentale, nella stanza a fianco si parlava, ma di cavolate, nel senso, cioè si parlava di cose che sapevo già che erano impossibili di fare. Adesso non ricordo che, però era come un corso su opzioni, fai conto? Dove non c'era rischio, guadagnavi tot, cosa che sapevo già che era impossibile. E quello aveva riempito una sala, ma mille volte più grande della mia, tutto sold out, pure lui. E quelle persone là erano andate lì perché c'era il mago che parlava. Dopo non era un vero mago, dopo quelle persone avranno tutte perso soldi. Però intanto lui aveva fatto un sold out di una stanza veramente enorme. Certo, ma perché poi anche quando vediamo, non so, faccio altri due esempi. Il tizio che ti dice guarda col mio sistema di trading e ti fa vedere, ti gira il video, te lo dice mentre gira in Ferrari, in Porsche, in Maserat. Oggi ragazzi, con leasing, cani e porci possono prendersi una macchina di lusso, fare tranquillamente una rata di un tot euro al mese, dipende dalla macchina, dipende da quello che vuoi, te la tieni, te la tieni, magari la scarichi anche con l'azienda, te la tieni lì per un tot di mesi, ti fai i tuoi 20-30 video che poi ovviamente in loop mandi in giro per promuovere le cose che vendi, anche quello voglio dire, parliamo di nulla. In più c'è una terza modalità, anche questa, ripeto, a proposito di maghi, di wizard. Se, cosa fa tanta gente? Faccio un esempio pratico. Io ho una pagina Instagram, ok, di investimenti. Soprattutto nei momenti tipo questi, sai, di mercati molto agitati, ribassi, rialzi, dove la gente è più debole mentalmente, perché sopporta meno, c'ha più ansia, quindi è più facile da prendere, diciamo, da acchiappare come clienti, ok, perché cercano soluzioni ancora di più che in periodi tranquilli. Cosa fanno? Fanno, ad esempio, un post dove per dire, io alle tre di notte faccio un post su Instagram e scrivo, domani, e scrivo, domani i mercati crolleranno del 5%, questo, questo e questo, puntate sui titoli, che ne so, sulle utilities, ok? Faccio il post alle tre di notte su Instagram, poi lo tolgo, lo metto in archivio, ce lo nascondo. Quindi io il post l'ho fatto, l'ho pubblicato, però l'ho nascosto subito. Allo stesso modo ne faccio uno uguale a quello di prima, però scrivo il contrario, no, perché è sempre lo stesso discorso, cioè se tu prendi due posizioni opposte, per la legge matematica una delle due la prendi, ok? Quindi poi il giorno dopo cosa fanno? Disarchiviano il post giusto, cioè della serie. Hai visto ieri che io ho detto che succedeva quella cosa lì? Ok? Il futuro non lo sa nessuno, ok? Ovviamente. Andiamo in questa logica qui. E guarda, ti confermo, anche perché qualche personaggio lo conosco, non che lavorano nella finanza, ma in altri ambiti, lo conosco per varie cose, molti stanno a Dubai e tutti noleggiano le Lamborghini, cioè si vanno vedere le Lamborghini. A Dubai ai Disney costano meno. Costano meno, sono più e coglioni. Dal primo all'ultimo sono tutte noleggiate, ma è normale. Comunque guarda, questo è un casino perché, al di là dei formatori, ma ci sono ovviamente tanti, tanti truffatori, noi stiamo pensando di fare un servizio, forse con un website a se stante, adesso decideremo, o se no sul mio website, su una pagina, per permettere alle persone di denunciare questi truffatori. Però lì parliamo di non formatori, cioè parliamo di truffatori veri, cioè che hanno rubato e sottratto soldi a risparmiatori e investitori. Lo faremo, siamo così, da stringere un accordo con uno studio legale e sarà senza pagamento up front, quel servizio là. Anche perché magari uno è già stato truffato, probabilmente non gli va di ripagare un altro servizio, lì va fatto chiaramente un po' di screening, perché arriveranno tante richieste, che truffe sono tante, non solo in cripto, anche nella finanza tradizionale, su vari ambiti, anche se sulle cripto questa fase qua non scherzano, e sarà senza pagamento up front. Direte, com'è possibile? È possibile nel senso che se poi l'avvocato manda avanti la pratica e vince, e quindi fa sborsare soldi a questi truffatori, o a denti che dovevano controllare e non hanno controllato, che anche qua non si sa che stanno facendo in Italia. Ah beh, guarda, lasciamo stare con... Il legale prende una percentuale, noi stiamo facendo questo. Quindi il classico, non per forza youtuber cripto, però tipo quegli influencer, soprattutto su Instagram, o ci sono anche delle truffe più velate, che magari sono portate avanti anche col network marketing, così, dove non c'è un'unica figura. Però chi ha venduto, sponsorizzato NFT, Scrausi, chi ha fatto truffe, Schemi Ponzi, così, gli daremo un servizio per denunciarli, e non solo denunciarli, perché lì comunque si va sul penale, ma per riprendersi, per provare a riprendersi qualche soldino che hanno intascato, sia da loro che da enti che dovevano controllare. Poi, con calma, quando abbiamo questo servizio operativo, vi gireremo link e varie cose. C'è una vecchia storia che gira non solo per Wall Street, ma gira in generale nel mondo finanziario. Infatti, giustamente, poi ho visto un commento adesso poco fa, che è apparso adesso, anche sul fatto appunto che non mostrano mai i portafogli. Quindi, ad esempio, tu lo sai, io scuolazione a Wall Street, quando opero, eccetera, io mostro sempre quello che faccio, perché io in primis ci metto i miei soldi. Quindi io sono sempre dell'idea, e lo farò anche adesso in un libro che esce con la OEPLI l'anno prossimo, farò proprio vedere varie cose, comunque tratterà gli investimenti. Parto dal presupposto, quando ho iniziato a scrivere questo libro, che faccio vedere i miei conti correnti, faccio vedere le mie operazioni, ovviamente i guadagni e anche qualche perdita, perché poi anche lì dimentichiamoci che un investitore guadagna sempre. Non esiste. Non esiste nel mondo. Anche i migliori investitori della storia, che hanno fatto dei rendimenti pazzeschi, hanno avuto le loro perdite, le loro operazioni in calo. Quindi anche questo sfattiamolo come mito. Detto questo, ripeto, poi c'è sempre un po' questa tendenza a venderti un po' il sogno, quindi diventa ricco in poco tempo, senza sforzo, che è quello che cerca molta gente, soprattutto senza una cultura finanziaria, perché poi si va, come dire, nel negozio che mi offre la soluzione più veloce al minor prezzo. Anche lì, poi ripeto, per tornare alla storiella che dicevo di Wall Street, in generale di mercati, si parlava di cercatori d'oro, di questa gente che andava in California per l'estrazione di oro, e per quindi cercare l'oro, trovarlo e diventare milionari, alla fine gli unici che hanno fatto veramente i soldi erano quelli che gli vendevano a questi qua le pale e i picconi. Quindi per tornare all'attualità ai giorni nostri, ricordatevi sempre che sicuramente i soldi li fa quello che vi vende le cose, quello è matematico, perché nel momento in cui voi pagate, lui i soldi li ha fatti. Poi il fatto che li facciate anche voi, parliamone. Poi molti di questi formatori comunque si stanno riciclando già in altri campi, che si erano riciclati magari in un periodo di euforia sul nostro, sulla finanza, sulle cripto, perché adesso poi quando ci sono i ribassi, le cose poi vengono fuori. Chi ha fatto il matto? Ma tu spiegami, ripeto, non faccio nomi, ma se fino a ieri tu, formatore o che cavolo che sei, mi facevi due maroni così, ok ho detto maroni siamo in fascia protetta, su newsletter, digital marketing, come generare lead su un certo tag. Oggi improvvisamente, dopo sei mesi, diventi un esperto di cripto, di NFT. Fammi capire sulla base di quale esperienza. Cioè io parlo di mercati e parlo solo di quello. Cioè se uno mi chiede, ma tu degli NFT cosa mi consigli? Io gli dico sempre, vai da Filippo. Non chiedermi niente. Poi adesso sugli NFT ancora non so. Vabbè, però gli dico, guarda vai a Filippo, Filippo magari ti dice da chi andare, ma sicuramente non mi metto io a dirgli, guarda fai così o ti vendo il corso. Ti dico già, guarda io di NFT, a parte che non mi interessa niente, perché io sono 100% mercato, qualcosina credito ma poco. E io quello faccio, ma perché? Perché ho lavorato per 15 anni nel settore, nel private banking di varie banche. Ho investito soldi miei, ho guadagnato soldi, qualche volta neanche persi, ho parlato, ho conosciuto veramente tantissimi trader, ma gente che sta sui mercati da 30 anni, basta vedere i nomi della Investing Cup che stiamo facendo, Borsi, Pugliani, Di Lorenzo, Para, gente che di mercati ne sa. Ok? Quindi ripeto, se io poi mi approccio ad una certa cosa è perché ho l'esperienza di anni, ho la pratica, sta gente qua. Io, a me la cosa che mi fa incazzare, poi chiudo e ti lascio la parola, non è tanto questi personaggi che dall'oggi al domani diventano esperti di NFT o di cripto. A me fa incazzare la gente che non... Cioè dico, ma come fai a non capire che uno non può... E non è solo questo. Il problema, lo sai qual è? Che le persone poi si dimenticano. Quindi paradossalmente fanno bene loro, cioè quei formatori là. E nel massimo picco di euforia sulle cripto, chiunque faceva prima marketing è entrato nelle cripto, senza fare i nomi, è entrato nelle cripto, senza sapere... Probabilmente non sapevano, cioè ve lo confermo, non sapevano assolutamente nulla. Adesso magari tutto tace lì e ripropongono magari in corso di marketing o... Eh sì, perché adesso... Però le persone... Assicuro che si dimenticheranno. Sì, sì, sì. Molte dimenticheranno. Adesso che sono tutti a meno 40, 50 o 60 con le cripto, qual è un'altra tattica intelligente di queste persone qui. Adesso bisogna sviare l'attenzione. Cioè nel senso, ho fatto una figura di cacca sulle cripto, mi sono preso una palata di dimensioni cosmiche, ho portato dentro una marea di gente. Aspetta. Ma io non ho mai detto di essere... Aspetta, ti racconto come fare una newsletter. Perché adesso la tua attenzione non deve essere più sul fatto che tociulato con quella roba lì è... No, deve essere... Guarda, sono bravo a fare newsletter. Così funziona così. Però loro, tutto sommato, ripeto, li capisco, cioè non ce l'ho con loro, li capisco. Sono opportuniti sì, e va bene. Nel senso, se... Cioè loro sicuramente avranno fatto fatturate, li capisco. Quello che a me dà fastidio sono proprio i veri truffatori, quelli che proprio fanno truffe finanziarie. Io sono più... Non so, a me sta... Io non sopporto nessuno dei due, quindi scusami, ma sono più... No, 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 ma... Cioè, normale. È più drastico su questo, perché... Poi a parte che anch'io, sai, insomma, un po' per il lavoro che faccio, io sai quante... quante scremature devo fare tutti i giorni di gente che mi propone l'ennesimo progetto milionario, l'ennesima impresa di successo, poi gli chiedi numeri, business plan, storico, soldi suoi, lì casca il palco, perché siamo sempre lì. Quando poi ti fai un po' l'orecchio, ti fai un po'... Anche l'esperienza, no? Perché poi, diciamoci la verità, chi non ha mai acquistato un corso magari di qualche filo guru, eh, magari più da giovane, cioè, lo fai anche per curiosità, no? Perché ci sta, ripeto. Poi, come hai detto tu, c'è chi è proprio truffatore, chi invece è bravo a venderti delle cose che poi sotto non hanno... non hanno contenuto. Diciamo che non è una truffa, però, insomma, diciamo che si potrebbe essere più corretti, mettiamola così. E quindi, però, voglio dire, a un certo punto, passata una, passata due, insomma, la terza si spera che capisci la lezione, ecco, questo dico. Non è facile. Io comunque vi dico, poi ci dirà anche Francesco, alcuni metodi per riconoscere le truffe. Quindi non parlo di corsi di formazione ai vari formatori, ma proprio truffe reali, veri e proprie. Anche se a qualche formatore era al limite magari della truffa, però qui parliamo di truffe reali. è necessario, allora, ricercare informazioni sulla persona che ti consiglia quel determinato investimento, che sia o persona fisica o comunque il soggetto, insomma, o una società, e sull'investimento anche in questione. Lato persona fisica, chi è che può consigliare sotto comunque determinate regole, anche là? Solo le persone iscritte all'albo ACF, o che siano promotori o consulenti finanziari indipendenti. Se una persona vi propone, non so, l'investimento in NFT o una determinata cripto specifica e da proprio come consiglio di investimento, che anche qui ci sono modi per riconoscere che cos'è il consiglio di investimento e no, deve essere comunque personalizzato, quella persona là commette un abusivismo finanziario, cioè rischia da sei mesi a quattro anni e una multa da duemila a diecimila euro. Però si va proprio sul penale. Per carità, esistono comunque investitori validi anche che non sono iscritti all'albo ACF, però chi non è iscritto comunque non può consigliare cose. E poi chiedetevi, nel senso, se uno prima faceva, non so, il pizzaiolo, io prima l'ho fatto, nel senso, l'ho fatto, quindi non dico male dei pizzaioli, io ho fatto dieci anni mentre studiavo all'università, facevo il pizzaiolo, quindi nulla tu studiavi. Io studiavo, però lungi da me offendere i pizzaioli, anzi, lavoro... Ma poi adesso in questo periodo parlare di pizza non è proprio il momento migliore. Però sai che, non so, devi curare una malattia, no? Cioè, difficilmente, una malattia poi rara, cioè, difficilmente prendi il consiglio dal pizzaiolo, lo prendi da chi lo fa di mestiere. Difida, soprattutto, da chi promuove investimenti o stenta ricchezza, cioè, uno dei campanelli d'allarme, non sempre, però molte volte sì, se uno si fa vedere con... Che contate che la prima ads l'ho fatta con la panda 4x4 vecchia? Proprio per prendere in giro questo. Ti racconto io un altro aneddoto carino su questo. No, 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 vai, finisci, finisci. Però chi si fa vedere il Lambo o così cerca comunque di vendervi un sogno, cioè, è difficile che un vero ricco si fa vedere un Ferrari o Lambo per venderti o promuoverti l'investimento. È molto, molto difficile. Poi, una persona fisica, perché qui ci sono proprio truffe che persone hanno consegnato soldi a una persona fisica, questo non si può fare, cioè, neanche consulenti indipendenti o promotori non potete, cioè, non possono ricevere fondi in alcun modo. I consulenti possono dare solo raccomandazioni, consigli, non è che possono prendere in mano i soldi del cliente. C'è un'eccezione dove sotto delega solo una volta, poi devi cambiare codici, puoi far accedere al consulente all'home banking per operare, ma proprio in eccezione. Però, altrimenti, il consulente non può prendere soldi in mano del cliente e quindi, già uno se ti dice dammi a me, che ne so, un bitcoin, te ne rimando due, non si può, a parte che è follia, però... No, no, ma a me era capitato di gente quando stavo in banca che proprio a un certo punto gli fregavano, non so, ecco, un'altra cosa che capitava sempre per stare un po' negli esempi, magari gli dicevano guarda, che ne so, gli investimenti normali ti rendono il 3-4% all'anno, io ti faccio rendere il 20, ok? O il 30. Classico schema Ponzi, quindi tu gli dai dei primi soldi, quindi magari gli dai 5.000 euro, lui prende addirittura o i tuoi stessi soldi o i soldi di qualcun altro a cui ha promesso la stessa cosa e ti ritorna ogni tot la percentuale corrispondente agli interessi, quindi magari dopo un anno tu gli hai dato 5.000 e lui ti dice guarda, ecco 1.000 euro, il 20%, e tu pensi questo qui è un fenomeno, ti gasi, poi magari gli dici guarda, mi servono i soldi e devo ritirarli, va bene, facciamo così, dammi 10.000 che poi ti ridò, cioè per prelevare devi versare ancora, capisci che non ha senso. Eppure c'è molto anche sulle cripto, spesso succede questo, mi arrivano le mail ma che mi chiedono, ma è sicuro che devo per prelevare da questo exchange, che poi non è un exchange, ma è una truffa, devo dargli il 20% o tot euro per far sbloccare l'altro? Perché molti, lo sai, come la mandano sulla questione delle tasse, cosa che sulle cripto ancora non c'è chiarezza, effettivamente, quindi dicono i truffatori, guarda, devi pagare le imposte prima che ti rimando tutto il capitale che fanno finta che hai in guadagno, devi pagare, cioè mi devi mandare un altro bonifico da tot soldi, poi da lì ti sblocco. Quindi alcuni addirittura, scusate, versano, fanno un altro versamento, un altro bonifico e poi gli rubano anche quello e non gli ridanno ovviamente il capitale e mail così gli hanno intassato la posta, quindi tante volte lo fanno questo. Sì, sì, ma guarda, tornando anche al discorso che dicevi tu della Lamborghini, io ho fatto tanti anni nel private banking di due banche estere, quindi una in Deutsch, una in Crédia Agricola, insomma, ho girato un po' di banche e io mi ricordo proprio di questa cosa che, ripeto, non è una regola, perché per carità non è sempre così, però tante volte quelli che erano clienti che io gestivo molto grossi, ti parlo di clienti con patrimoni superiore al milione di euro, ok? Per capirci. Non gli avresti dato una lira. C'era gente che se tu li vedi per strada, anzi, magari eri tu che gli davi un euro perché dicevi povero, sto qua non c'ha una lira e poi invece era gente che era veramente piena, ma piena, piena, piena. Quindi, ripeto, anche qua, io quando vedo tutte ste robe, macchine, cioè, ripeto, la macchina oggi volente o nolente la può avere quasi chiunque. Ci sono tanti modi per apparire, oggi anche la tecnologia, come dire, ti aiuta a fare appunto Photoshop, piuttosto che, quindi, ripeto, quello che conta, almeno io sono sempre un po' alla vecchia maniera, sono i fatti, i risultati che tu fai, l'etica, la trasparenza, queste cose qua. Poi è chiaro che c'è, ripeto, bisogna anche dire questo, che se io faccio formazione su qualcosa e la gente sa come sono fatto io, io avrò un certo tipo di target che so che mi segue, che so che sa quello che faccio, la gente che va dietro guadagna tra cinque minuti un milione di euro, diventa ricco e vai alle Canarie a fare, aberti il mojito, non è neanche target, sinceramente, che interessa magari a persone che come me magari fanno un certo tipo di attività, ok? Quindi io sono anche convinto che poi ognuno attira, in base a come per se stesso, verso l'esterno, attira il suo target collegato, no? Quindi a me spiace dirlo, però se la gente è un po' scemotta probabilmente andrà sempre da quelle stesse persone che gli vendono appunto quelle robe lì. Guarda, sulla questione ricchezza e ostentare, poi in Italia forse c'è anche un caso eccessivo, cioè siamo sempre un po' ai poli dell'estremo, e ad esempio il cliente più ricchio che ho in consulenza è venuto in studio con una macchina distrutta e vestito proprio da, vi giuro da barbona. da barbona proprio, che io ho aperto la porta pensavo che era venuto a chiedere l'ermosina quella persona invece è il più ricco che ho. Perché qua poi succede il caso opposto, cioè l'estremo, anche lì. Poi ripeto, non è sempre così, però tanti, io ripeto, sarebbe da fare un po' buonsenso, diciamo. Ma guarda, io ti dico, nel libro che sto facendo adesso, che ripeto, uscirà poi a marzo-aprile con Apple l'anno prossimo, tra le varie cose che sono andato a fare, perché poi a me piacciono molto, tu ormai mi conosci i numeri, le statistiche, no? Alla fine, se andiamo a vedere un attimo la ricchezza spalmata, divisa tra le famiglie, popolazioni in Italia, tanto per darti un numero, poi non voglio anticipare nulla, però, con un patrimonio finanziario, ti parlo, quindi lasciano stare gli immobili, eccetera, pari o superiore a 50.000 euro, ok? Tu già ti poni nella, come dire, nel medione, già ti poni nella parte alta della classifica degli italiani, proprio perché non sono tantissimi quelli che effettivamente hanno patrimonio di una certa consistenza, ok? Quindi, già lì, quando io vedo queste statistiche, dico, vabbè, ma quindi la statistica ISTAT, ISTAT, non lo dico io, ISTAT, dice che su 100 persone 5 sono miliardarie, anzi, anche meno, le statistiche dicono 2 o 3 sono miliardarie, dalle 3 alle 10 stanno molto bene, dalle 10 alle 20 hanno certi patrimoni. Tolto quello, la gente sta nel medione. Quindi ogni volta se io vedo 10 informatori diversi, so che 7, 8 di questi sono degli disgraziati, fondamentalmente. Statistica alla mano. Poi, rimetto un attimo lo schermo, concludiamo questo discorso, è possibile anche che una società vi propone, o meglio, magari una persona però che si propone come società, vi va a promuovere un investimento, le società per fare questo, per gestire i soldi dei clienti, devono essere iscritti all'albo in Italia, cioè per operare c'è una burocrazia estrema, che è anche estrema effettivamente, però c'è, quindi le società per fare questo devono essere iscritti da appositi albi. Quindi se non ci sono su albi che potete trovare anche sul sito della Consob, è un campanello forte d'allarme, o comunque è proprio una società che fa abusivismo anche qua, finanziario. Se c'è network marketing nel contesto, per carità, network marketing non è il male, però nel mondo delle cripto, specialmente, e finanza, quando c'è network marketing è un mega campanello d'allarme. È già un mega campanello d'allarme. Poi devi chiederti che cos'è che cerca di offrirti quella persona o la società. Molto probabilmente ti dicono che hanno un sistema che garantisce una rendita certa, anche qua non esiste, cioè l'assunto della finanza è che non esistono passi gratis, quindi non ti possono dare una rendita né certe, soprattutto non esiste a rischio zero. Poi spesso, cioè basta farsi le domande nella vita, cioè spesso ci sono, trovi quella piattaforma che ti offre, non lo so, un ritorno fuori da ritorni normali, fuori da quelli del mercato, chiediti ma perché se esiste non lo fa Warren Buffett o d'altri? No, ma soprattutto se esiste perché non lo fa quello che te lo propone, cioè nel senso se io fossi in grado ripeto di fare come Buffett che fa il 15-20% annuo composto, ok? Annuo composto, cioè vuol dire che per la regola famosa del 72 vuol dire circa che in tre anni e mezzo raddoppi il capitale se uno ti propone il 20% all'anno di rendimento, ok? Quindi vuol dire che se io parto da un capitale di 50.000 euro, ok? Io non ho bisogno di venderti la cosa perché se faccio il 20% all'anno io in dieci anni sono a posto, ok? Tendenzialmente o comunque ho trovato il segreto per diventare e allora perché te lo devo vendere a te? Sono scemo cioè che ho trovato una roba che funziona che mi rende e la vengo a dire a te. Che poi magari succede anche a te, non lo so, qualcuno qualcuna volta mi contatta per queste sponzate qua, magari dicono ti fanno fare il 20% al mese o il 10% al mese senza informarsi neanche sulla persona, magari non l'ho venito a dire a me o a Francesco però vabbè e io gli rispondo va bene se è vero che ce l'hai andiamo da BlackRock o altri io mi prendo guarda il 10% diventiamo ricchi e vendiamo la strategia. Io non ho, allora anche a me io non ricevo tantissimi come ti dicevo però difficilmente cioè di solito non rispondo proprio perché già dal tono capisco se questo è un cazzaro oppure no. Poi ogni tanto quando magari ciò mi capita in un momento che sono tranquillo allora lì mi diverto un po' nel senso che anch'io poi divento un po' questa gente qua mi gli faccio capire in qualche modo che magari è meglio se fanno altro capito? Quindi poi dopo lì ogni tanto è anche giusto che si prendano delle lezioni proprio come dici tu se vengono a proporre a te una roba sull'ecrito voglio dire cioè fatti una ricerca prima no? cosa vai a chiedere a Filippo Angeloni una roba di cripto? Cioè non ha senso ok? Stessa roba se magari mi chiedono a me delle robe scure come se arriva uno con un sistema di non so stock picking azionario può dire una resi tecnica una resi fondamentale che ti fa fare un 10% al mese certo costante sai bene che è impossibile cioè non esiste guarda fammi vedere il tuo conto corrente è lo storico degli ultimi tre anni insieme io gli faccio pelo e contropelo dopo perché io poi divento con queste persone qui secondo me è giusto che ogni tanto anche paghino perché ripeto io ho proprio l'allergia a questo tipo di cose ma questo ripeto perché magari adesso è arrivato ora in live faremo un website comunque un servizio quindi una pagina sul mio website dopo vi daremo i vari link in altre live e sarà un servizio per denunciare e provare a riprendere soldi da questi truffatori sarà senza pagamento up front ma con una provvisione comunque una percentuale presa se si vince la causa e vi dico che molte volte è possibile vincerla sia contro queste persone sia contro organi comunque enti che dovevano vigilare e non l'hanno non l'hanno fatto quindi chi ha venduto NFT o ha fatto scam si si preoccupi si inizia a preoccupare no lo faremo perché veramente è eccessivo così in Italia che non controlla nessuno e per ora la fanno quasi sempre franca poi l'immagine che avevo fatto vedere prima di quello che stava in jet forse quella è stato uno dei pochi che è stato arrestato adesso non mi ricordo neanche il nome però se no la fanno franca molte volte insomma diciamo che oggi comunque abbiamo secondo me abbiamo dato qualche spunto pratico quindi io ho fatto l'esempio dei conti separati dei post ecco state attenti a queste cose qui secondo me va bene grazie grazie Francesco per oggi finalmente siamo riusciti a fare questa live che rimandavamo da un po' ero sempre in giro a cercare siamo avanti tutti a mago della finanza ma figuro io ero in giro io sono sempre il cretino che poi dice beh guarda però i rendimenti non è che siano proprio il 20% all'anno devi stare attento non piace a tutti però ragazzi cioè secondo me poi la verità ecco io la cosa che mi auguro sempre ma anche per te insomma è di riuscire a stare sui mercati perché comunque noi siamo ancora diciamo di una generazione giovane per altri 20-30 anni il che vuole dire che comunque poi non è sempre quello che anzi non è mai quello che ti promette i super rendimenti quello che merita veramente seguire ma è quello che riesce a stare sui mercati per tanto tanto tempo indipendentemente da tutte le varie cose che succedono ogni giorno quindi questo secondo me è la vera forza di un bravo investitore di un bravo formatore e ne abbiamo anche tanti esempi in Italia per carità il time in the market il classico va bene grazie a tutti per oggi grazie a tutta la chat e noi ci vediamo probabilmente prossimo forse prossimo lunedì però ve lo faremo sapere ma credo che oggi si tematica non lo so provate a commentare una tematica di vostro interesse se no ce la inventiamo come al solito io e Francesco ciao a tutti ragazzi e grazie per oggi ciao 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 ciao